Per il Matera Grumentum è terminata la stagione dei record, anzi, cominciamo ad abituarci chiamandolo solo Matera, visto che dal prossimo anno, in Serie D, il secondo nome cadrà in via definitiva. In programma dalla prossima stagione ci saranno sicuramente delle novità importanti, per quanto la formazione biancazzurra abbia letteralmente dominato il proprio girone d'eccellenza, stracciando ogni record possibile e immaginabile. Al 99,9% si ripartirà con mister Finamore. Il presidente Petraglia, per quanto sia stuzzicato dall'idea di affidare la squadra ad un allenatore ben più esperto per la categoria, dovrebbe confermare l'intero staff tecnico che ha portato, o forse dovremmo dire riportato, il Matera in Serie D. Per quanto concerne la Rosa, aspettiamoci una vera e propria rivoluzione, con Gerardi e Lobosco punti fermi su cui costruire il resto della squadra. In tempi non sospetti, Petraglia aveva dichiarato che una società come il Matera non può accontentarsi di lottare per la salvezza, ma aspettiamo comunque una partenza soft ed una formazione costruita per mantenere la categoria senza troppi affanni. Il padron dei Lucani è al momento in attesa di ausilio da parte di imprenditori locali, partner commerciali e sponsor di grossa caratura, tanto infatti dipenderà anche dal supporto economico che il Matera avrà a disposizione in vista della prossima stagione.